Dal salone, fino al mattino presto, tanti gli ospiti che passano dal nostro stand, che grazie a Camera di Commercio, sono protagonisti di questo salone del libro, portando la bellezza del sostegno all'imprenditoria, in modo particolare all'imprenditoria femminile in questo caso. Ne parliamo con Brigitte Sardo, del Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino, ovviamente, questo per noi oramai è un vizio perché dopo una giornata di salone è davvero casa nostra. Brigitte, a breve protagonista qua al Book Club di un evento di Camera di Commercio dedicato all'imprenditoria femminile, puoi accennarci un po' che cosa sta per capitare? Che cosa sta per capitare qui al salone? Avremo un bravissimo relatore, Crivello del Museo del Risparmio, che racconterà e coinvolgerà in maniera molto proattiva i ragazzi, raccontando a loro, parlando in maniera molto semplice della finanza e quindi di come risparmiare, utilizzare l'argento, che sia argent de poche o no, ma comunque i soldi. Quindi il grande protagonista oggi sarà Crivello. Come Comitato, quali sono le attività istituzionali di promozione dell'imprenditoria femminile? Qual è il lavoro che svolgete costantemente, che magari ai più può passare nascosto, ma che invece c'è e sostiene l'imprenditoria femminile? Allora, intanto vorrei raccontare che il Comitato è un insieme di donne che rappresenta le varie associazioni del territorio, rappresenta gli istituti bancari, rappresenta i sindacati, per cui è una platea molto vasta di donne che si trovano insieme per proporre e ragionare su progetti comuni. I progetti, naturalmente il Comitato sostiene, parliamo di impresa, quindi sostiene le donne imprenditrici, le neo donne imprenditrici, dando comunque delle indicazioni, accompagnandoli in percorsi, organizzando dei corsi di formazione, quindi sostiene l'imprenditoria, lo dice il termine, l'imprenditoria femminile. Noi, grazie a questa diversità, che comunque rappresenta una grande ricchezza all'interno della nostra squadra, ragioniamo su diversi temi. Diciamo che uno dei temi che è più sentito è quello della violenza di genere nei luoghi di lavoro, piuttosto che in generale la violenza di genere, che diventa anche violenza finanziaria, e quindi qui naturalmente ci ricolleghiamo al tema di cui abbiamo parlato poc'anzi. Nel momento in cui ci troviamo in gruppi, questo gruppo, che si chiama Discriminazioni No Grazie, è un gruppo anche aperto al territorio, ad altri attori del territorio, che siano il Comune di Torino, che siano l'Ordine degli Avvocati, eccetera, in modo da poter raccogliere davvero tutte le necessità e provare a ragionare insieme su come aiutare queste donne, quindi su progetti che possano servire a sostenere o a svolgere azioni, naturalmente anche insieme alle imprenditrici e alle imprese, per poter fare in modo da arginare sempre di più questo grosso problema. Diciamo che organizziamo degli eventi, e un evento importante sarà il 12 giugno al Museo del Risparmio, dove parleremo proprio di violenza economica. Stiamo organizzando anche un evento per la giornata contro la violenza delle donne, che, per quello che ci riguarda, dovrà lavorare insieme, fare squadra e fare sinergia fra tutte le associazioni del territorio per organizzarne uno, visto che noi rappresentiamo tante associazioni, in modo da dare più forza. L'idea è quella di istituire, ve lo dico qua alla Lancia, una borsa di studio, in questo caso per i figli delle vittime, perché si parla sempre di donne che sono vittime, ma chi rimane è quello che soffre di più e che ha bisogno forse anche di un percorso di accompagnamento. Per cui, quest'anno, le donne del Comitato si impegneranno per provare a creare questo premio in aiuto e a sostegno delle vittime, delle donne che sono state, purtroppo, che non ci sono più, che non sono più con noi. Brigitte, noi sappiamo che adesso sei impegnata, quindi ti lasciamo andare. Ancora una curiosità. Spesso una violenza che viene perpetrata nei riguardi delle donne, soprattutto nei riguardi delle donne immigrate, che non hanno lo stesso accesso all'inculturazione rispetto a quello che è il posto in cui si trovano a vivere. Mentre l'uomo, grazie al lavoro, o i figli, grazie alla scuola, possono maggiormente avere accesso alla conoscenza della lingua, con la conoscenza delle abitudini, a tanti altri aspetti, vi è proprio una frangia di donne che rischia di essere tagliata fuori da questo. Ci sono attività anche che in qualche modo vanno a toccare questa problematica e questa sensibilità? Allora, un evento che faremo è quello che spiegherà alle imprese, alle imprenditrici, quali sono i bandi e le opportunità che esistono sul nostro territorio per poter aiutare queste donne. Io sono un'imprenditrice, devo dire che all'interno della mia azienda, in questi giorni sto accogliendo, stiamo lavorando per fare delle pratiche per accogliere una vittima di violenza, che quindi è seguita da un programma. La cosa importante è parlarne, perché molte imprese non conoscono queste opportunità e queste possibilità. E il nostro ruolo è proprio quello di diffondere questa, perché ci sono tantissimi progetti all'interno. Poi noi, rappresentando tantissime associazioni, ci facciamo parte di raccolta, naturalmente, per poter anche poi creare eventi per poter diffondere, quindi fare proprio una diffusione di tutto quello che il territorio offre. E devo dire, la nostra forza è proprio quella di mettere insieme, anche in questo caso, le associazioni sindacali, proprio perché loro hanno un focus molto specifico, soprattutto su quelle che sono le violenze di genere in casa, che poi si ripercuotono all'interno delle aziende. Per cui un'antenna dovrebbe averla anche l'imprenditore nella propria organizzazione, per fare in modo che queste cose possano venire allo scoperto e agire in tempo utile per poter evitare. Brigitte, grazie di cuore, buon salone e buon evento. Grazie a voi.